Questa sera il palco di Affari Tuoi ha visto protagonisti Graziano e la sua fidanzata Annabella, una coppia proveniente dalla Basilicata. Graziano, noto per la sua passione per la batteria e soprannominato rock papaleo, ha partecipato a ben 38 puntate, guadagnandosi il titolo di concorrente dei record. Tuttavia la sua avventura non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo pochi tiri ha perso la possibilità di vincere 200.000 euro e successivamente 300.000 euro contenuti nei pacchi dell'Abruzzo e della Toscana. Nonostante le difficoltà iniziali, Graziano ha mostrato una grande determinazione, rifiutando le prime offerte del dottore e puntando al monte premi più alto. La sua convinzione di mantenere il pacco numero 10 fino alla fine è stata messa in discussione da Lupo un altro concorrente che ha suggerito di accettare il cambio proposto dal dottore. Dopo un'attenta riflessione, Graziano e Annabella hanno deciso di seguire il consiglio di Lupo e hanno optato per il pacco numero 14 dell'Emilia Romagna, spinti anche da un sogno di Annabella e da alcune coincidenze fortunate. La tensione è aumentata quando Graziano ha deciso di aprire il pacco numero 10, scoprendo che conteneva solo 5.000 euro. Questo ha portato un senso di sollievo, poiché avevano ancora la possibilità di vincere 30.000 euro. Tuttavia, l'ultima offerta del dottore, pari a 15.000 euro, ha messo in crisi le certezze della coppia. Annabella era convinta che il monte premi più alto si trovasse nel pacco numero 12, mentre Graziano, spaventato dalla possibilità di tornare a casa con soli 100 euro, ha accettato l'offerta del dottore. Questo ha rivelato una delle trappole più astute del gioco, poiché nel pacco numero 14 si trovava effettivamente il monte premi più alto. La serata si è conclusa con un mix di emozioni per Graziano e Annabella. Sebbene avrebbero potuto vincere di più, la loro esperienza ad affari tuoi non è stata del tutto negativa. La coppia ha dimostrato che, nonostante le sfide e le incertezze, l'importante è affrontare il gioco con positività e determinazione. La loro avventura rimarrà nella memoria degli spettatori.